bentornati bentornati su Star Wars Outlaws, sono Dufo Mixam sul mio canale e adesso dopo aver risolto questa missione ritorniamo dalla nostra amica la meccanica e riportiamo quello che ha, oppa la saltone gigante e siamo attenti la strada di qua seguiamo la strada perché questo affare qua va che è una scheda ma adesso andiamo da un'altra amica che sicuramente se lo sistemerà ancora meglio perché che c'è qua speranza di guante grandi prati dove devo andare mi sa che ho sbagliato strada di là credo e siamo arrivati ok portiamo questo affare che abbiamo preso la nostra amica eccoci qua c'è la contenta immagine anche se in realtà non credo che serva per sistemare il nostro spy spiller però vediamo un po' che ci racconta grazie molto bene acceleratore atmosferico ma e vediamo se me la vedo un po' a posto è già salito vediamo come già sistemato inizialmente è perché intanto la missione è completata le informazioni trovate un granate pomoglio visualizzare il diario vediamo un attimino compressore per granate tessuto di dura fibra elemento chiave per creare la borsa da canaglia e roba cremiti ha una scorta di tessuto va bene questo invece compressore per granate va bene andiamo qua che abbiamo la missione dell'apricollice da andare a fare senza dubbio abbiamo anche altre missioni qua a fare il sospeso e le principali falsa bandiera falsa bandiera visione principale e opportunità del cartello però ragazzi abbiamo un sacco di cose da fare abbiamo anche questa vediamo a fare in sospeso e si può vediamo un attimino intanto cosa abbiamo guadagnato la sopra con i nostri vari barcadatta storia vediamo il personaggio abbiamo conosciuto un nuovo personaggio esattamente se lo rovac è una giovane nativa di toshara è cresciuta in un esiliamento di pesca aerea sognando sempre una vita diversa ma senza potersi lasciare la famiglia alle spalle tuttavia ha deciso che se non può cambiare la galassia forse può cambiare toshara e così si è messa a costruire dei dispositivi che rendono più semplice l'attività di famiglia sfruttando la forza del vento della zona va bene e questo è il nuovo personaggio appena scoperto tutorial che impariamo con il tutorial o i veicoli vediamo un po' turbo speeder ragazzi ottimo usa quadrato per lasciare delle spalle tutti quanti ah il turbo con il quadrato ci fa il turbo e fa dei salti giganteschi poi c'è la della parte la conoscevamo già la schivata la conosciamo scarica della giornalina va bene quando ci vado di quelli ragazzi non si spara va bene e qua ci siamo già con tutto poi abbiamo qualcosina nelle abilità senza dubbio abbiamo specialisti adesso oltre ad avere lui che il barista abbiamo anche lei la meccanica ok quindi abbiamo due specialista uno di due bloccati due di sei bloccati va bene biografia ma già lo sappiamo già abbiamo letto equipaggiamento vediamo l'inventario che abbiamo qua materiali che è successo a ok abbiamo qualcosa di nuovo qua sotto acceleratore di particelle utilizzare utilizzabile per il allenamento del blaster ok quindi ce l'abbiamo acquistabile normalmente reperibile va bene poi abbiamo lega perfetto e altro e tutto il resto e 20 del tessuto che gli serve ce ne vogliono le vogliono 8 per la vostra canaglia 18 per la borsa da fuori legge e 30 per la canottina con l'assata mi funzionavano meno va bene comunque non sono un po di più 5 di questi lega per il diffuso utilizzabile va bene componente flessibile tutte cose che servono per costruire materiali vari sono importanti invece abbiamo dei oggetti da missione parti che oggetti di valore questi sono rivendibili e possiamo semplicemente fare qualche soldino va bene ragazzi abbiamo detto le missioni da fare seguiamo un po la missione che possiamo fare a questo punto e quindi andiamo nel nostro diario e direi di andare a seguire l'altra missione che ci aveva detto l'apricodice se qualcuno sotto sarà che potrebbe aiutare a prendere le mani su un kit da piccoli avanzato va bene mostra nella mappa lo tracciamo è qua quindi praticamente dobbiamo andare e tornare ok andiamo lì tagliamo sul nostro missione completata il meccanico è buono ragazzi sali sullo speed nuove informazioni trovate tessuto di dura fibra c'è altro nuova attività bloccata si ah beh il bulbo l'abbiamo già visto continua ce lo farei vedere ottimo la meccanica ci può fare altre cose la meccanica di salto speeder cazzatrice di tesori eh ragazzi qui sono tutte cose che ci possono essere molto molto importante la borsa da canaglia ci vuole allora per fare questo salto speed niente per fare questo niente la borsa da canaglia serve per saliamo davanti e fare cose più importanti ok molto bene segui i progressi andiamo avanti e usciamo da qua e seguiamo la nostra strada dove dobbiamo andare sala da gioco marca ok diamo della sala da giochi quindi da che parte siamo la mappa e dove andare praticamente nella città e noi siamo qua dove andare a milo gara va bene non c'è un viaggio veloce per arrivare qua viaggio rapido forse sì ragazzi se c'è il viaggio rapido ho imparato ora che abbiamo il viaggio rapido possiamo andare direttamente la ok dobbiamo andare adesso sala da giochi quindi super dirà probabilmente vediamo subito vedere dove si trova questa saletta da giochi non so neanche io ragazzi che bisogna fare ma andiamo a vedere qua ci conoscono già buongiorno vediamo in giro se becchiamo cose che possono essere utile a volte becchiamo delle cosette in giro sparse che lasciano così di qua di là qui non c'è niente torniamo di qua perché la sala giochi potrebbe essere di qua eh però io guardiamo in giro perché ragazzi a volte troviamo degli oggetti qualcosina che ci fa sempre comodo di grande giabba ho letto di grande giabba attenzione ragazzi attenzione attenzione di grande giabba ho letto qualcosa di che riguarda tutte le prime sono vincolante da che parte devo andare chi è questo ma assolutamente no ma perché gli ho dato i soldi a questo qua ma per favore ma che scemo ma non è possibile gli ho dato dei soldi a quello non mi riuscirà più va bene andiamo avanti ok per lustrare da che parte questo cosa vuole questo mi sa che prima si è già chiamato che c'è come 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 Sì ragazzi saltiamo la partita e andiamo a fare il sabotaggio sabotaggio vediamo subito di che parla il sabotaggio è allora dopo aver scoperto che sindacato pai che sta intervenendo con il traffico di creature di jabba un sicario del cartello ut di nome vera richi ingaggia kai per rubare la loro lista di clienti e sabotare il loro levamento intensivo dei coperi 6.000 mostra sulla mappa vediamo dove è sulla mappa qui c'è il giocatore praticamente adesso sulla mappa non me lo sono perso me lo sono perso torniamo al diario mostra sulla mappa e lo tracciamo vabbè falsa bandiera miscela principale ok mi devo andare a parlare con due a me perché due metri no torniamo sulla missione questa allora diario sabotaggio questa cos'è vuol dire sotto vostro andiamo sul sabotaggio no non è questa falsa bandiera a votaggio e questa modo sulla mappa e traccia ok quindi possiamo andare con un viaggio veloce si può fare da qualche parte qua mostra del diario viaggio rapido qui non ci non possiamo andarci mi sa che viaggio rapido qui da queste parti non ce l'abbiamo e andiamo per certo contatto è un po' lontano ragazzi allora ci cosa prima la partitina è un casino bisogna segnere con le missioni fare tesoro non scoperte navigatore dai seguiamo questo bisogna uscire a questo punto qua allora bisogna uscire da qua step per due o tre chilometri quindi usciamo e andiamo a cercare questa andiamo di qua forse possiamo prima il nostro mezzucro dovrebbe essere qui da qualche parte probabilmente lo richiameremo qua adesso noi usciamo quello richiamiamo qui non c'è niente da prendere a volte qualcosa non si trova no ok facciamo così e lo chiamiamo qua dove è perché non arriva eccolo qua ok a questo punto dobbiamo andare verso di là ok la steppa ok i grandi bratti finiamo la strada ragazzi siamo ci stiamo arrivando è un po' lontano sto posto però ce la possiamo fare poi mi sembra che vicino a un paletto della luce andiamo per di qua e ci arriviamo eh dove sono finito contro un muro l'avevo ucciso l'avevo ucciso ok un altro morto qua e li stavano inseguendo eh ok con calma dove dobbiamo andare adesso siamo vicini eh eh sì siamo vicini quindi devo dov'è il posto porca miseria mi ha fatto girare come un caratamarrano eh è di dietro devo andare da dietro probabilmente andiamo da qua allora ok 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 madonna l'ho begato in pieno eh sono morto io raga bellissimo 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 un cazzo da quello che devo fare meglio tagliamo queste scene tutte quante perchè non vanno affatto bene allora torniamo indietro da qua cerchiamo di capire da che parte devo andare dov'è probabilmente è incontro il contatto dovrebbe essere qua mostra sul diario incontro il contatto incontro il contatto potrebbe essere la sua quindi devo andarci a piedi eh allora devo andare su a piedi credo ragazzi quindi cerchiamo una soluzione per di qua eh secondo me qua bisogna salire in qualche maniera eh dov'è il mio collo qua vieni qua prendiamo questo e lo piazziamo qua e scendiamo perchè di qua secondo me si può salire infatti oh che cazzo ti attento eh di là come c'è cosa sorti a fare va bene devo salire di qua ok con molta calma e tranquillità perfetto e maletto ciao bello allora vi lascio verso anche di qua però mi sa che c'è una porta nuova così si disola le grotte da un bit però qua è chiusa andiamo per il di qua allora perché credo che qua sia tutto però abbiamo delle grotte qua però qua non so vabbè andiamo di qua credo che di qua si vada si passi eh 40 metri siamo poi già arrivati oh c'è qualcuno raga eccoci qua grazie niente da prendere eh salve ah è semplice è facilissimo prendi la bomba e metti la bomba la bomba laggiù è una classe che carica di albarodio temporalizzata va bene quindi posso andare bomba prendiamo sta bomba ok ok quindi adesso dovremmo andare 310 metri per dove ci andiamo per dirà di qua non si può scendere di qua esatto oddio la vedo male e andiamo oppala merda ok con calma ancora 264 metri vabbè ok andiamo di qua c'è gente qua e come scendiamo qua adesso si sa del male ma molto molto male a scendere da qua ci facciamo allora calcolando che adesso non potrò più tornare su dobbiamo andare giù quindi e vediamo un po' per dove è scendere che ancora non ho capito esattamente come fare ah ecco eccola ecco la specie qualcosa che non avevo visto ci attacchiamo e saltiamo di qua perfetto e adesso andiamo verso non so neanche io se oh attenzione sono delle guardie ci sono delle guardie ragazzi eh sì c'è una una là che ho visto adesso andiamo centro operativo dov'è? è la, quindi dobbiamo andare in la. una guardia eh, possiamo provare a chiamarla, ce ne son due merda, ce ne son due di qua infatti se lo teniamo un po' però eh, lo so, questo qua ci ha sentito, gli altri non l'ha sentito, meno male, perché era solo una, c'era una guardia qua, perché nix, se mi fa vedere le guardie, mi fa vedere le guardie d'altra parte, quindi questa è morta eh, però non ci dà niente, porcazza, miseria, si desse almeno qualche regalino, no, niente, ma ce ne sono due guardie, mica poche eh see what they've got nice oh, per fare, per metterci, come si fa per usare ehm l1 mi fa questo distrai per selezionare le altre armi, ragazzi, così per selezionare le altre armi per selezionare le altre armi per selezionare le altre armi no, non sono morti, merda andiamocene qua andiamocene qua allora andiamocene di qua probabilmente vanno dall'altra parte ah, c'è un altro armi, ragazzi, non va mica tanto bene ehm ehm l'ho ehm ehm siamo pronti a a a attenti ehm mi ha anche dato una granata ragazzi sono morto me ma si ricomincia tranquillamente ora di qua si dovrebbe sendere se non dico male no facciamo così e andiamo di qua cerchiamo di stare attenti perché sono là c'è una eh no I need a drink. So dull. Nix, go. Fetch. 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 Get away from there! Who are you? Perf! We're spotted, Nick! Eh, ragazzi, qua... Reputazione Pyke, sconfinamento... Eh, va bene, chi se frega... Però dobbiamo andare a cercare di... Sono tanti i nemici dall'altra parte... Sono tanti... Vediamo quattro ce ne sono, eh... Là ce n'è uno... ... ... ... ... ... ... I hope I get paid soon. Get him, Nyx. What in the name of... Be careful! Wait, what? Let's do this, Nyx! You're dead, you hear me? I can still take you down. You're going to regret that. There are different enemies here. There are different enemies. Let's go over here. What? I'm going to make you pay. I can still take you down. If I have to. Show no mercy. Go look over there. Where'd she go? Go! Start looking. Sure thing. Lost one. I can't find anything. Okay. I think we lost them, Nyx. Strange. That doesn't sound good. Peg, you can't be here. I can't find anything. Oh! Oh! There we go. Oh! 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 It's like no. Oh! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti La ce n'è uno anche là 120 abbiamo ancora un po' di metri da fare Intanto qua ragazzi cerchiamo di... questo è morto male Io amasserei tutti questi che sono qua però andiamo qua sopra voglio vedere Voglio andare qua sopra e vedere se c'è qualcosa C'è qualcosa? 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 Non però è anche molto pericoloso Allora andiamo un pochino Possiamo dare anche per di qua Dove trovi i nemici? La? Sì e non vedi le nemizie sono sopra le nemizie allora probabilmente sono sopra che stiamo attenti qua e qui dove si va non si passa per andare sopra per dove si passerà dall'altra parte nemici non c'è nessuno andiamo avanti e rompe qua dietro anche se non vedo nemici stiamo attenti 44 ora andiamo con calma super di qua e vediamo se riusciamo a arrivare da qualche parte di interessante allora vediamo là c'è uno che cacchio fa qua questo porca truia ok dovrebbe tornare di là dovrebbe tornare di là quindi e la mettiamo K.O. un R.K.O. poi c'è l'altro qua adesso da mettere K.O. senza farci tanare ok diamo un'occhiata qui si può aprire usa connettore ok questo ci ha preso il mitra prendiamo questo ok cucile blaster apriamo qua adesso se riusciamo allora uno due uno due il Ok, aperto. Ok vediamo cosa c'è qua dentro Niente? C'è aperto per l'aria Ah qui c'è qualcosa ragazzi Cos'è? L'uba Tessuto, l'uba Ok Non so dove si va di qua eh Non so dove si va di qua E neanche questa porta qua Dove ci porta Prima elenco dei clienti Eh ok Quindi non è questo 12 metri Per l'ustra l'aria Eh però qua Siamo vicinissimi eh Qualcosa c'era? 73 metri Questa era la porta Questa è interessante Qui dove dobbiamo intornarci Per far rispondere tutto Poi torniamo al su Questa cosa potrebbe essere? Non c'è nessuno Eh però stiamo attenti eh Perché sembra che non c'è nessuno Ma non vorrei poi Faccio un computer Di là c'è un computer buono eh Per l'energia al massimo Qua c'è un computer eh Informazione Una volta che c'è C'è da carta Trovi i dati dei clienti Eh ho capito io Apri Ok Ok Qua c'è qualcosa da prendere Che c'è? Cintura da furfante Especiala Qua c'è? Ma dov'arri per questa? Hmm Rifiuta E finisci il lavoro Hmm Parti di pensare un attimo raga Ci ho pensato un po' raga Io ho preso il lavoro Da Werder Come si chiamava? Il tipo là Hmm Adesso mi sembra Ritradirlo Quindi a questo punto Eh Facciamo così Rifiuti il lavoro E finissi E lei si cazzerà Come una iena Speri che mi ha ingaggiato E devo finirlo il lavoro No? Eh È scesa Ancora Porca miseria Fucile blaster Lo prendiamo E l'elenco Doviamo prendere Tu quello che ce la prendi adesso Doviamo scappare Assolutamente qua Ho visto tutto E prendi l'elenco Oh nice Nuovo oggetto L'elenco L'abbiamo preso Adesso devo uscire In qualche maniera Eh Occupiamoci Ok Qua l'abbiamo preso tutto Eh Ok Qua richiede Se io trovo l'operativo Non si può fare niente Di qua Quindi proviamo A uscire di qua Da dove siamo venuti Praticamente Andiamo a piazzare Sta bomba No? Dovrebbe essere qua sotto Di piazzare la bomba No? Apri Ok Quindi qua Fucile Blastered Ce lo riprendiamo Qua che c'è? E la mettiamo qua Però devo darvi in fretta Eh Via Ok Quindi Apri Vai Presto Ok Fuggiamo in fretta Eh Quello qua mi sa che tra poco C'è un gran botto Eh Niente da prendere Madonna Ah Anche qua Deve ad aprire Ora Ok Ti ha aperto Via Ragazzi Fuggiamo più fretta Che possiamo Che la vedo molto molto male Molto male Via via Cavolo ragazzi Ma che mi scena assurda Tutto che fare Quindi Apri Ok Fuori Porca troia Oh ragazzi C'è andata abbastanza bene qua Eh C'è andata di lusso Eh Porca cazza miseria Vabbè La miscina è completata Però Certo che qua c'è un po' di gentaglia Giù Osserva Abbandona la struttura Eh Sì Abbandona la struttura Sempre facile Non sono a piglio Da nessuna parte Chi è a voi Eh Per dove vado Raga Non è che sia poi Così semplice No l'unica è a dare per di qua Allora L'unica è di qua Eh Eh Eeeh andiamo come donna ok oh ma donna, io ho lato via 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 ok c'è uno che è là sotto cattiva con i paik ma chi ce ne prega dei paik ragazzi ok via ok dov'è? ok e ce ne andiamo via ragazzi nooo ho sbagliato territorio pai da che parte andare? per la caverna? vediamo no dalla parte opposta eh di là ok nooo merda dove è il mio bagaglio qua? parta su dove siamo? taverna dei paik di là ok ok stiamo andando velocissimi verso la tavella ragazzi da che parte andiamo adesso per entrare di qua ok scegliamo la strada ok ok raga attenzione malemma maialona siamo arrivati ok ragazzi la mission cina sembrerebbe quasi finita entriamo qui dentro taverna allora dove sei ragazzo eccoci qua ciao bello ok mille perdoni c'è dati mille perdoni mille perdoni grande ragazzi molto bene direi che questo punto potrei anche salvare ut buona ovviamente abbiamo abbiamo buona con l'ut cattiva con i pai che scalda con i creme che sia ragazzi da qualche parte bisogna certo che con gli ut abbiamo giabba eh giabba ragazzi potrebbe essere una bella soddisfazione conoscerla e magari ci porta anche a trovare ian solo che c'è lo sbaglio è stato invernato da qualche parte non mi ricordo bene tutta la trama ragazzi beh io direi ragazzi che a questo punto ci lasciamo qua credo che sia salvato il gioco quindi tu for me si saluta un bel like se è piaciuto l'episodio ragazzi un pollicione in su se poi non siete iscritti al mio canale sapete che ci si può iscrivere non costa niente attivate la campanella da qualche parte della mia homepage in descrizione le link della playlist avete perso qualche episodio di andare a rivedere non è un problema lo ricercate lo guardate finché volete insomma fate tutto quello che vi va e detto questo ragazzi sezione canali trovate tutti i miei amici che portano le loro video su youtube simpatici in gamma bravissimi in descrizione altra cosa importante trovate anche il link a telegram al mio canale dove scriverò le notizie più importanti e al gruppo Tuffo Mix games lì si potrà parlare di giochi quello che volete domande di sport consigliati commentate anche nel video ragazzi perché è molto importante sapere i vostri pareri sul gioco se vi piace la serie continua mi sta gustando mi piace mi piace la serie mi piace l'animazione la grafica insomma tutto l'insieme vi sta gustando vi saluto vi do appuntamento a presto ciao a tutti ragazzi alla prossima da Tuffo Mix ciao